Musica Mercoledì 9 agosto ben ritrovati con la nostra informazione quotidiana partiamo subito con il primo dei nostri servizi filmati i carabinieri hanno arrestato un ladro seriale che era solito prendere di mira attività commerciale di via grande ed haci buon accosso un uomo di 33 anni di via grande è stato arrestato però è messo a segno una serie di furti aggravati in particolare l'uomo pregiudicato per reati specifici contro il patrimonio avrebbe preso di mira le attività commerciali via grandese e limitrofe realizzando furti a loro interno nelle ore notturne destando così vivo allarme tra i commercianti dalle indagini è emerso che lo scorso 21 giugno un cinquantenne titolare di una barberia in via Vittoria Emanuele a via grande ha denunciato ai carabinieri di aver subito il furto di circa 200 euro dalla cassa dell'esercizio commerciale specificando quindi che il ladro sarebbe entrato attraverso una porta sul retro confinante con una vecchia abitazione attigua in stato di abbandono nella stessa mattinata anche il titolare cinquantunente di una fioreria accanto si è rivolta ai carabinieri per denunciare lo stesso reato commesso usando la stessa metodologia questa volta il bottino sarebbe stato di 500 euro sempre prelevata dalla cassa del negozio in questa circostanza la presenza delle telecamere del sistema di videosoveglianza ha permesso ai militari dell'arma di acquisire le immagini del furto dalle riprese è stato possibile vedere che il ladro ha cercato di coprissi il volto con la stessa maglietta che indossavo un episodio che sembra all'interno dello stesso negozio di fiori si sarebbe ripetuto anche 24 ore dopo oltre 12 euro dalla cassa il ladro infatti avrebbe portato via anche un computer portatile dal barolo di circa 1000 euro nella notte dello scorso 23 giugno a subire un furto e a denunciare tutti i carabinieri è stato un 41enne titolare di un bar di via Gary e Badde ad Ace Bonaccorsi anche in questo esercizio commerciale la presenza di un sistema di videosoveglianza ha consentito ai militari dell'arma di entrare in possesso delle immagini che hanno registrato l'autore del furto con i viso nascosto dalla maglietta all'interno del bar l'uomo sarebbe entrato utilizzando il sottotetto razziando 600 euro contenuti nel registratore di cassa dall'analisi dei diversi filmati i militari dell'arma hanno quindi potuto riconoscere il 33enne che dopo l'arresto è stato portato nel carcere di Catania Piazza Lanza vita dura per gli zozzoni a Biancavilla grazie ad un sistema di videotrappole nelle ultime ore sono stati individuati diversi sporcaccioni che senza esitazione hanno gettato rifiuti in un'aria adiacende l'isola ecologica vediamo lotta agli zozzoni a Biancavilla grazie alle videocamere trappola alcuni sporcaccioni sono stati individuati e saranno presto multati per queste azioni di inciviltà che ancora persistono nella forma mentis di qualcuno li abbiamo beccati in pieno inconsapevoli di essere inquadrati da un occhio elettronico invisibile una delle telecamere intelligenti di cui ci siamo dotati di recente dice il sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno sono gli sporcaccioni che in maniera inopinata depositano illegalmente sacchetti dei rifiuti in varie zone della città anziché conferirli in maniera regolare come fa la maggior parte dei cittadini il nuovo sistema di telecamere continua il primo cittadino è stato piazzato in un'area cittadina e ha dato subito ottimi e impietosi risultati gli imbrattatori saranno ora multati e dovranno pagare una sanzione ai pochi ma altamente dannosi imbrattatori voglio ricordare che non c'è alcuna ragione per sporcare la città il nostro sistema di raccolta differenziata funziona benissimo non adeguarsi è quindi ingiustificabile saremo inflessibili, ha aggiunto Bonanno l'area dove sono stati beccati gli zozzoni è quella che si trova proprio adiacente l'isola ecologica e il muro perimetrale del civico cimitero e nei prossimi giorni saranno monitorate altre zone della città mi auguro che la lezione serva ad azzerare le iniziative intollerabili chi sporca la città sarà punito, ha tuonato ancora il sindaco e rimaniamo a Biancavilla dove questa mattina si è registrata una lite all'esterno dell'ufficio postale sempre di Biancavilla fra due persone di Adrano, un giovane e un adulto i due sarebbero venuti alle mani per via del turno da rispettare davanti i postamat sono dovuti intervenire i carabinieri della vicina stazione per riportare alla calma i due che ovviamente sono stati identificati questa mattina il papà di Affredo Antonio Caruso il 28enne belpassese rimasto vittima nell'incidente stradale avvenuto lo scorso 28 luglio sulla stradale 121 in territorio di Belpasso ha contattato la nostra redazione per lanciare un appello chi ha assistito all'incidente per favore si faccia avanti lì ha detto il padre della vittima sentiamo cosa ha detto la famiglia non si dà pace è alla ricerca della verità dei fatti e per questo si è rivolta anche ad un legale torniamo a parlare del drammatico incidente stradale che si è verificato venerdì 28 luglio scorso lungo la strada statale 121 in territorio di Belpasso e precisamente incontrata Palazzolo in direzione Paternò dove a morire è stato il 28enne belpassese Alfredo Antonio Caruso che era alla guida della sua moto Yamaha 600 e il papà Antonio ad aver contattato la nostra redazione per lanciare un appello a chi magari quella maledetta sera era lì e ha assistito alla dinamica dell'incidente se qualcuno ha visto o ricorda qualcosa che possa far meglio comprendere quanto accaduto per favore si faccia avanti in sindese questo è il messaggio del padre del ragazzo venuto a mancare in quel terribile incidente stradale che oltre ad aver spezzato la vita al 28enne assegnato per sempre la vita dei suoi familiari proprio questa mattina la salma di Alfredo è stata tumulata al cimitero dopo il dissequestro disposto dall'autorità giudiziaria che aveva disposto l'ispezione cadaverica sul corpo del povero ragazzo la dinamica ricostruita dai carabinieri della stazione di Belpasso e della radiomobile della compagnia di Paternò intervenuti quella sera sul posto sembra essere quella ricostruita sin dal primo momento ovvero che la moto guidata dal 28enne forse a velocità sostenuta avrebbe effettuato un sorpasso infilandosi fra due mezzi e precisamente un autocarro ed un'autovettura per poi per qualche motivo rovinare sull'asfalto non lasciando scampo purtroppo al giovane che sarebbe deceduto sul colpo nonostante intossasse il casco i tre mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro per essere esaminati nel dettaglio ma come detto al momento questa sembra essere la dinamica il padre chiede comunque a chi ha assistito all'impatto di raccontare l'accaduto per meglio capire la dinamica una famiglia distrutta dal dolore per una perdita così forte che di certo non potrà riavere indietro il loro congiunto ma le eventuali testimonianze potranno aiutare a dare una spiegazione plausibile all'accaduto Sarà possibile presentare entro il 12 agosto le segnalazioni relative ai danni provocati dagli incendi e dalle ondate di calore che nelle scorse settimane hanno provocato non pochi disagi appunto a darne notizia il presidente dell'assemblea regionale siciliana Gaetano Galbagno È possibile per tutti i cittadini attività produttive o commerciali e quanti abbiano subito danni a causa degli incendi e dell'ondata di calore abbattutesi sul territorio catanese il 23, 24 e 25 luglio scorso presentare un'apposita segnalazione al comune Etneo attraverso un modulo corredato come indicato nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del comune di Catania da materiale fotografico in ogni sua parte ed inviarlo entro le ore 12 del 12 agosto a protezionecivilechiocciolacomune.catania.it A darne notizia il presidente dell'Ars Gaetano Galbagno sulla propria pagina social in riferimento agli eventi emergenziali dello scorso mese di luglio la giunta regionale guidata da Renato Schifani con deliberazione numero 311 del 26 luglio ha avanzato ai competenti organi statali la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per i gravi danni provocati dagli incendi e dalla concomitante ondata di calore verificatasi il 23 luglio per il territorio dei comuni interessati ricadenti quindi nella regione siciliana in attesa che la presidenza del consiglio dichiari lo stato di emergenza e che sia emanata dal capo del dipattimento della protezione civile a relativo ordinanza esecutiva l'amministrazione comunale di Catania ha ritenuto opportuno effettuare una urgente ricognizione danni e acquisizione dati la segnalazione comunque meglio specificare non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi soggetti allo stanziamento di fondi da parte della competente direzione regionale sarà necessario scaricare il modulo contenuto nell'avviso e inottrarlo all'indirizzo del comune di Catania della protezione civile ha detto Gaetano Gabbagno acquisendo quindi dati fotografici e ogni documento utile a dimostrare le spese sostenute per il ripristino dei danni subiti e restiamo, anzi ritorniamo a Biancavilla si potenzia il corpo della Polizia Municipale con quattro nuove unità che questa mattina hanno firmato il contratto alla presenza del sindaco Antonio Bonanno prenderanno servizio a partire dal primo di settembre sentiamo la Polizia Municipale di Biancavilla si arricchisce di quattro nuove unità infatti questa mattina i quattro neovigili urbani hanno firmato i contratti quindi pronti ad entrare in servizio i quattro nuove agenti della Polizia Municipale vincitore del concorso il cui iter si è concluso poco tempo fa sono stati ricevuti questa mattina al municipio dal sindaco Antonio Bonanno dal presidente del Consiglio Comunale Luigi D'Aso e dall'assessore Vincenzo Randazzo per la firma del contratto di lavoro che prevede il loro ingresso in servizio dal prossimo 1 settembre si tratta di due uomini e due donne vincitori di una selezione che ha visto oltre 300 partecipanti quella dei vigili urbani è stata la prima prova della nuova stagione concorsuale aperta dalla mia amministrazione ha detto il sindaco Antonio Bonanno con un organico ridotto all'osso era nostra precisa volontà partire proprio dai vigili urbani per garantire un maggior controllo del territorio molti vigili hanno raggiunto l'età pensionabile nel corso degli anni provocando così una riduzione drastica dell'organico assumere prosegue Bonanno fino a poco tempo fa per il Comune era un verbo che non si riusciva a coniugare prima di poterlo fare infatti abbiamo dovuto mettere i conti in ordine ora andiamo spediti per garantire rinforza a tutta la macchina comunale sono già in corso le procedure che riguardano altri concorsi per due ingegneri due assistenti sociali e un amministrativo mi complimento con il dottor Davide Marino capo aria per l'ottimo lavoro realizzato ha concluso così il sindaco Antonio Bonanno sono i giovani appartenenti alle fasce di età tra i 14 e i 18 anni destinatari delle attività previste nell'ambito del progetto giovani e città avviato ufficialmente dal 1 luglio su tutto il territorio di Adrano su iniziativa dell'associazione agenzia giovani per i giovani di Vizzini per la partecipazione attiva e inclusiva dei giovani alla vita sociale dei territori approvato e finanziato dalla regione siciliana e dalla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della gioventù e del servizio civile universale a valere sul fondo nazionale politiche giovanili anno 2019 e 2020 la macchina organizzativa è già partita e vede coinvolti tutti i partner ovvero il comune di Adrano e il primo istituto comprensivo statale Giuseppe Guzzardi nella fascia di costituzione dell'equip che dovrà guidare le attività progettuali e nella ricerca dei destinatari che dovrebbero essere 80 giovani adraniti dell'età come detto compresa fra i 14 e 18 anni le azioni messe in campo previste e l'obiettivo mirano sostanzialmente a promuovere nel territorio di Adrano la partecipazione attiva e solidale dei giovani alla vita sociale e culturale sostenendo la socialità l'aggregazione e la creatività giovanile valorizzando anche alcuni spazi cittadini rivolti ai giovani e beni comuni urbani al fine di favorire il raggiungimento di un alto grado di relazionalità di opportunità di apprendimento e la costruzione di legami prevenendo e contrastando così il disagio giovanile le dipendenze tecnologiche la povertà educativa e in alcuni casi anche la dispersione scolastica il progetto giovani e città entrerà nel vivo nelle sue attività nel mese di settembre in coincidenza della riapertura delle scuole ed è previsto l'avvio di quattro laboratori differenti orientati tutti verso il fine progettuale strumenti di partecipazione civica per i giovani patti di collaborazione giornalismo e comunicazione web radio laboratori culturali e creativi questi laboratori previsti la speranza è quella che il progetto giovani e città possa essere non un traguardo ma un punto di partenza verso una serie di attività e comportamenti che porteranno a migliorare la qualità della vita dei cittadini e determinare delle azioni di cambiamento non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora non resta che salutarvi e darvi appuntamento alle prossime edizioni una buona serata grazie a tutti Grazie a tutti.